Ci avete mai fatto caso che nei film di fantascienza, quando i registi vogliono mostrarci che siamo su un altro pianeta in modo facile, spendendo poco, senza creare un paesaggio particolarmente strano, perché alla fine devono comunque registrare sulla Terra, il trucco che usano è mostrarci qualcosa di strano nel cielo. Quindi nel caso di Lucas, per esempio, su Tatooine erano due soli, in Avatar c'era un pianeta gigante gassoso nelle vicinanze. Ma uno dei trucchi che viene impiegato più spesso è farci vedere due o tre o quattro lune. L'idea di avere più lune nel cielo è una delle cose più esotiche rispetto a come vediamo noi il nostro cielo notturno. Ma in realtà la Terra nel passato ha avuto diverse altre lune, oltre a quella che vediamo. All'inizio della sua storia, se vi ricordate spesso cito l'Adeano come uno dei miei eoni e periodi preferiti nella storia della Terra, quando la luna si era appena formata la Terra aveva anche gli anelli per un pochino, ma ce l'aveva. Probabilmente aveva molte altre lune che poi o sono finite sulla Terra, o sono state lanciate fuori in giro per il sistema solare, o sono precipitate poi sulla Luna. Quindi la Terra ha una storia di altre lune, ma al di là di queste, periodicamente, la gravità terrestre prende qualche piccolo asteroide e lo tiene in orbita intorno a sé prima che la sua orbita venga poi sconvolta dalle maree della Luna e della Terra e del Sole e finisca di nuovo in orbita intorno al Sole. L'ultima volta che era successo è stato all'inizio del 2020 e abbiamo avuto una mini luna chiamata 2020 CD3 che è rimasta qui nei paraggi fino a marzo e ora sta per succedere di nuovo. Da ottobre di quest'anno fino a maggio del 2021 avremo una nuova mini luna che orbiterà temporaneamente intorno alla Terra. Anche se c'è un po' un mistero, perché non sappiamo di preciso che cos'è. Prima di parlare del mistero che c'è dietro riguardo all'origine di questo frammento, parliamo della sua scoperta, così nel frattempo vi crea un po' di suspense e vi anticipo che una delle spiegazioni prevede la presenza di circuiti all'interno di questo oggetto. Intrigati? Beh, allora, partiamo con l'origine. È stato trovato il 17 settembre da un telescopio di nome Pan-STARRS-1 alle Hawaii e quando l'ha trovato la prima cosa che ho notato è che aveva un'orbita molto, 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 molto simile alla Terra. E quando dico molto, molto simile è perché, appunto, sottolineo molto, cioè normalmente gli oggetti hanno orbite simili alla Terra in alcuni casi, cioè se sono asteroidi per esempio della categoria della famiglia Apollo, ma non arrivano ad essere così simili alla Terra. E l'altra cosa strana è che si muove molto più lentamente rispetto a tutti gli altri asteroidi che abbiamo trovato. Questo è già di suo strano. Poi c'è il fatto che è un oggetto molto piccolo, di pochi metri. Quindi abbiamo un oggetto di pochi metri che ci spia, che viene insieme alla Terra, la segue nell'orbita e che ora starà per un periodo intorno a noi e poi se ne andrà. Zam, zam, zam. Ok, no, ho cercato di creare un po' di mistero stile X-Files, ma in realtà si pensa che potrebbe trattarsi di un frammento di una missione che abbiamo lanciato verso la Luna. Quindi è un pezzo di un vecchio razzo che ora orbita intorno al Sole, perché quando è stato lanciato aveva una velocità abbastanza alta da fuggire alla gravità terrestre, ma alla fine non è finito sulla Luna e poi quindi è finito per orbitare intorno al Sole. E quel pezzo potrebbe avere un'origine particolare a cui sono un sacco affezionato, cioè il programma Surveyor. Se vi ricordate ho fatto un intero video dedicato a tutto il programma Surveyor, se siete curiosi ve lo lascio qui sotto in descrizione. era stato il primo programma della NASA per cercare di atterrare sulla superficie della Luna, per dimostrare che si può fare prima di mandare, dai, esseri umani. Ebbe abbastanza successo anche se aveva alle spalle un altro programma chiamato Ranger, in cui la NASA ha lanciato una marea di sonde verso la Luna e la maggior parte non hanno funzionato, mentre gli astronauti si stavano preparando e continuavano a vedere queste sonde che andavano fino alla Luna e fallivano, esplodevano, si rompeva sempre qualcosa e loro pensavano, oh che bello, da pochi 3-4 anni dovremmo andare noi. Evviva! Questo misterioso frammento è stato battezzato 2020SO e quando arriverà potremo studiarlo meglio, ma data la bassa velocità e l'orbita quasi esatta della Terra, appunto è possibile risalire indietro a quando potrebbe essere stato lanciato per avere quest'orbita. e un ricercatore di nome Paul Chodas è andato negli archivi e ha scoperto che probabilmente la corrispondenza migliore, se non altro, è di una missione chiamata Surveyor 2, la seconda del programma Surveyor. La prima, del 1966, è scesa con successo sulla superficie della Luna, dimostrando per la prima volta che anche gli americani erano in grado di arrivare e anche il fatto che una sonda poteva scendere piano sulla superficie e non sprofondare in metri e metri di regolite, che era una delle grandi paure riguardo alla Luna, che continui bombardamenti di asteroidi avessero frammentato la superficie creando questo composto stile come se fosse una polvere molto sottile, grande, cioè spessa, mentre gli astronauti arrivavano lì con la loro navicella sarebbero sprofondati all'interno. Invece la sonda riesce ad atterrare su una superficie relativamente rocciosa e dimostra che si può fare. Oltre a quello è una grande vittoria anche per appunto tutto il team di JPL e la NASA che per quasi un decennio avevano continuato a lanciare cose verso la Luna aspettando di arrivare finalmente con una sonda robotica sulla superficie. Non era stata la prima sonda ad atterrare sulla superficie perché la prima in assoluto fu la Luna 9 dell'Unione Sovietica a febbraio del 66. Surveyor 2 doveva dimostrare che il Surveyor 1 non era un caso e che quindi atterrare sulla Luna si poteva fare e si poteva fare con precisione. Non è andato come previsto. La missione è partita con successo, tutto è andato bene e di solito quello era un grande sospiro di sollievo perché la maggior parte delle missioni iniziali finivano malissimo perché il razzo non funzionava. Questa volta il razzo, un Atlas Centaur, funzionò benissimo ma la sonda, mentre era in viaggio, ebbe un problema con uno dei piccoli propulsori che usava per le manovre. A un certo punto dovete correggere l'orbita per riuscire a puntare verso la Luna, verso il punto esatto che stavano prendendo di mira e quando hanno acceso i propulsori, uno laterale non si è acceso e questo ha fatto sì che gli altri accesi spingessero la sonda in una sola direzione e quindi la sonda ha iniziato a capitombolare nello spazio, a girare su se stessa e ha continuato così. Non riuscivano a prendere contatto con la sonda, non riuscivano a rimanovrarla in altro modo e quindi è arrivata 52 ore dopo, se mi ricordo bene, a schiantarsi sulla Luna, semplicemente girando su se stessa sempre più velocemente e basta. Che non deve essere particolarmente incoraggiante se sei un astronauta e guardi questa missione. Ma qui siamo a parlare di un altro pezzo, cioè cosa è successo al razzo. Il razzo aveva dato abbastanza spinta per andare verso la Luna e poi per puntare fino alla Luna dovevano usare questa correzione, questa manovra di correzione orbitale a metà strada. Quindi il razzo non era puntato verso la Luna ma era abbastanza veloce da lasciare la gravità terrestre e del tutto anche quella lunare quindi è andato ed è definito in orbita intorno al Sole. Quindi quello che pensiamo di trovare è il secondo stadio, l'ultimo pezzo di questo razzo che dovrebbe essere più o meno delle dimensioni di 2020 SO. Per cui da una parte sì, avremo una mini Luna che orbiterà intorno alla Terra per qualche mese e dall'altra parte c'è una possibilità che sia in realtà un frammento della nostra storia dell'esplorazione spaziale. E lo so che per molti potrebbe essere tipo spazzatura spaziale ma in realtà, secondo me, è molto bello. Cioè, là fuori è pieno delle tracce delle nostre prime missioni che altrimenti avremmo perso per sempre. Quindi è quasi come un museo che aspetta di diventare tale. Quindi sono solo questi piccoli frammenti rimasti di tante missioni che abbiamo fatto. In futuro potremo andare a recuperarle, potremo metterle in museo. Quindi mi piace che siano rimaste lì. Non pensate con gli occhi di ora, ok? Perché quelle che abbiamo ora nei musei, se andate a visitare, che sono musei dedicati all'antica Grecia, all'antica Roma, per i contemporanei la maggior parte di quelle cose era una spazzatura. Quindi immaginate qualcuno dell'antica Grecia che va a vedere ora i musei dedicati alla sua civiltà. Cos'è questa robaccia? Perché non avete le cose belle che avevamo? E perché le statue sono tutte bianche? Perché le avevamo colorate? Ci avevamo messo così tanto a colorarle? Se non lo sapevate, le statue che tanto amiamo dell'età classica non erano bianche, erano piene di colori e solo che sono sbiadite. Quindi, così come gli occhi dei contemporanei non erano adatti per valutare, non sarebbero adatti per valutare quello a cui oggi diamo valore, così per noi magari non sembrano pezzi importanti, ma a livello storico riprendere pezzi di alcune delle primissime missioni che abbiamo mai lanciato tra due, tre, quattrocento anni sarà di enorme valore. Quindi il fatto che siano sane e salve là fuori da qualche parte mi rassicura sempre. Tipo, le prime missioni che abbiamo lanciato verso la Luna non hanno beccato la Luna. Dovevano schiantarsi sulla Luna, ma sono passate accanto e sono ancora in orbita intorno al Sole. Quindi mi piace l'idea che un giorno potremo recuperarle e mostrarle il museo e dire questa è la prima cosa che gli umani hanno mai lanciato verso la Luna. Ma io ho un cuore tenero per la storia, ne sono lavorato in quello, quindi sono di parte. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e purtroppo la Luna non sarà visibile intorno alla Terra, cioè non sarà visibile in questo caso nei cieli notturni perché appunto è troppo piccola, anche se con un telescopio credo che si possa vedere un pochino meglio se avete un buon telescopio, perché essendo metallico dovrebbe essere particolarmente riflettente. Detto questo, non è assolutamente certo che sia il frammento di una missione. E' la spiegazione più probabile, viste le caratteristiche orbitali, ma potrebbe essere un piccolo asteroide che semplicemente per passate interazioni con la Terra ha preso questa orbita. Quindi magari scopriamo che in realtà è roccioso. Per riuscire a scoprire questo dobbiamo aspettare che si avvicini e vedere il modo in cui riflette la luce, perché appunto l'acciaio riflette in modo diverso rispetto a un asteroide roccioso o carbonaccio o metallico. Quindi ci aspettiamo che solo dal riflesso della luce possiamo avere già degli indizi più concreti. Detto questo non è l'unica mini luna appunto che la Terra ha avuto o avrà e magari, chissà, un giorno un asteroide un po' più grosso magari si avvicinerà un po' di più e noi diremmo e viva una mini luna! E poi si schianterà sulla Terra. No, che tento. Ogni volta che sento asteroide la mia mi sa pivot la parte del cervello più primordiale e pensa, scappa, fai qualcosa, preparati. Moriremo tutti. Quindi io vi avviso. Poi diranno, quando arriverà l'asteroide diranno Adrian l'aveva detto. No, non è che l'avevo detto. Tutti quanti lo dicono da quando sappiamo che ci sono gli asteroidi che possono colpire la Terra che prima o poi succederà. Ma, vabbè. Questo lo lascio per un altro video. Ci vediamo presto. Un abbraccio come sempre e continuate ad essere meravigliosi. Vi ricordo che tutti questi video sono possibili grazie a voi su Patreon. Quindi se volete sostenere il progetto e farmi felice sono felice comunque a parlarvi però ecco, se posso mangiare anche, sono ancora più felice e ho quasi l'ora di pranzo quindi a fare. Andate sotto, trovate Patreon e ci vediamo presto per un altro video. Ciao! Grazie!